La Princes Marie de Lichtenstein è stata ricoverata d'urgenza in ospedale mercoledì dopo aver subito un ictus all'età di 81 anni. La principessa consorte è sposata dal 1967 con Hans Adam II, l'attuale principe de Lichtenstein. Una dichiarazione ufficiale ha dichiarato. La casa regnante si rammarica di annunciare che Sass la principessa ha avuto un ictus ieri. Sta ricevendo cure in ospedale. La famiglia regnante chiede la vostra comprensione che non verranno fornite ulteriori informazioni in questo momento. Su Twitter, i fan dei reali hanno augurato alla principessa consorte una pronta guarigione. Speriamo che si riprenda bene, ha detto un utente. Un altro ha aggiunto. Le auguro una completa guarigione. I miei pensieri e le mie preghiere sono con la famiglia. Marie e Hans Adam II, fidanzati nel 1965, hanno quattro figli e quindici nipoti. Marie è nata il 14 aprile 1940 nella Repubblica Ceca. Suo marito, il principe di Lichtenstein, è nato nel 1945 e regna dal 1989. Rimane capo di Stato, ma ha passato la gestione quotidiana del Lichtenstein a suo figlio, il principe ereditario Alois, nel 2004. Sebbene il Lichtenstein abbia solo una popolazione totale di soli 38.378, al 2019, la loro famiglia reale è la seconda più ricca d'Europa. Possiede una banca, ingenti investimenti e una collezione d'arte di 400 anni. Le donne del Lichtenstein non ereditano il trono, il che significa che la figlia di Tatiana Marie non è nella linea di successione. Nella famiglia reale britannica, i fratelli maschi sono stati in grado di superare le sorelle maggiori in successione fino a quando la regina ha approvato il Succession of the Crown Act nel 2013. Questo è stato introdotto nel 2015 quando è nata la principessa Charlotte. Così, il principe Louis è dietro la principessa Charlotte nel percorso verso il trono. Così la torta giro la generale dei fisi di vintage Così e la progorso verso ilwoodismo Così e la vita è regionale. Così la dietaiosa już è stata 순 burg四 dressed mythe